Biologa, consigliere museo della scienza, autrice di Superquark, le grandi epidemie per donzelli e ci aiuta sempre a capire un po' come stanno le cose. Ci dice subito se abbiamo scoperto qualcosa in più del Covid-19. Da quando è iniziata la nostra grande chiusura negli ultimi due mesi sicuramente abbiamo scoperto molte cose. Però io penso che la cosa più importante che abbiamo scoperto e cosa vuol dire misurarsi con una pandemia di questa gravità e di questa portata. Se andiamo indietro di due mesi forse ci ricordiamo che allora potevamo ancora illuderci che avremmo sconfitto questo nuovo coronavirus. Magari saremmo riusciti almeno a spingerlo fuori dai confini nazionali. Ecco, ora credo che purtroppo sia chiaro a tutti che fino a che non avremo un vaccino con questo nuovo coronavirus dovremo in qualche modo convivere. E questo significa che quando sarà finita la fase di emergenza in cui ancora ci troviamo ma che speriamo finisca proprio fra poco dovremo riprendere alcune attività cercando di non ammalarci. Nei laboratori di tutto il mondo una delle cose che si sta cercando di fare è proprio raccogliere le informazioni che ci consentiranno, si spera, di attraversare al meglio questa fase 2. Una delle prime cose da capire è come il nostro sistema immunitario reagisce all'infezione e quindi se ci siamo già ammalati, se ci siamo già contagiati, se abbiamo la sicurezza di non correre il rischio di ricontagiarci perché siamo immuni e per quanto tempo. Ovviamente è una informazione fondamentale sia per noi stessi che per le persone magari fragili che ci circondano. Un altro aspetto riguarda proprio la malattia, la Covid-19. Due mesi fa ci ricordiamo forse, ci dicevamo ancora che forse tutto sommato questa malattia assomigliava a una normale influenza, giusto un pochino più cattiva. Beh, ci siamo resi conto che non solo la Covid-19 è molto più pericolosa di una normale influenza, ma non la possiamo neanche poi tanto avvicinare a quella che potremmo chiamare una normale polmonite. Perché? Perché innesca una infiammazione molto molto pericolosa che mette in crisi non solo i polmoni ma anche altri organi, per esempio il cuore. E questa è stata una informazione fondamentale per migliorare anche l'assistenza alle persone malate e ancora ne abbiamo da scoprire a questo proposito. C'è la questione della carica virale. Abbiamo scoperto già da tempo in realtà che non ci basta incontrare un virus per ammalarci, dobbiamo incontrarne molti. Quanti sono molti? Ebbè, e questo purtroppo non lo sappiamo ancora con esattezza e saperlo ci aiuterebbe a individuare le situazioni che rappresentano un rischio maggiore per noi perché ci mettono in contatto con troppi virus e quelle in cui invece potremmo stare forse un pochino più tranquilli. Infine, a me piacerebbe molto capire, ancora una volta, perché, per fortuna, i bambini sembrano essere abbastanza risparmiati almeno dalle forme più gravi della malattia. È un'informazione molto utile da raccogliere anche in vista dell'apertura delle scuole. Si chiamano in causa diverse ipotesi, magari alcune particolarità del funzionamento del sistema immunitario dei bambini, c'è bisogno di più ricerca. Perché, insomma, è vero che a noi due mesi sembrano tanti, sembrano un'eternità se li passiamo in maniera assurda come gli ultimi due, ma purtroppo, dal punto di vista della ricerca, sono abbastanza poco tempo, anche quando tutto il mondo aspetta i risultati. Dottoressa Gallavotti, un'altra frontiera che è stata probabilmente poco percorsa è quella degli effetti collaterali, dei danni collaterali di questo virus. Può, ad esempio, favorire la diffusione di altri agenti infettivi? Questa è una cosa di cui abbiamo tutti molta paura, perché questo virus effettivamente può mettere in difficoltà il nostro organismo, forse anche il nostro sistema immunitario, al punto da renderci più propensi a sviluppare altre infezioni. Ma c'è anche un modo più subdolo in cui questo nuovo coronavirus può dimostrarsi un alleato di altri agenti infettivi, ed è mettendo in crisi i sistemi sanitari. Sappiamo che l'ipidemia mette in grave difficoltà il nostro sistema sanitario, mette letteralmente in ginocchio i sistemi sanitari dei paesi più poveri. Ora, al momento ci sono già 23 paesi che hanno dovuto sospendere le campagne di vaccinazione normali per dirottare tutte le poche risorse e le energie al contrasto al nuovo coronavirus. Questo vuol dire che al momento ci sono già 13 milioni e mezzo di bambini che non hanno ricevuto i normali vaccini contro malattie molto pericolose, il morbillo, il colera, anche la poliomelite. E siccome abbiamo ormai capito che gli agenti infettivi non conoscono confini, questa è una tragedia per quei bambini e per quei popoli. Ma è un problema per tutta l'umanità, perché gli agenti infettivi o si sconfiggono tutti insieme o restano una minaccia per tutti. Perché invece c'è così tanta paura dei vaccini? Questo in effetti sembra molto strano, perché fra tutte le invenzioni della medicina moderna i vaccini sono sicuramente quelli che si sono dimostrati più efficaci, salvando anche negli ultimi decenni decine di milioni di persone da malattie gravi o addirittura dalla morte. Eppure l'opposizione ai vaccini nasce con i vaccini stessi. Nel 1800 inizia la diffusione del primo vaccino disponibile, che è quello contro il vaiolo, e cominciano subito a sollevarsi voci che esprimono dei dubbi. Addirittura nel 1822 il Papa, che è Leone XII, pensa di rendere obbligatoria la vaccinazione contro il vaiolo per contrastare un'epidemia che stava facendo molti danni nella zona dell'Emilia. Beh, incontra una fortissima opposizione popolare. I parroci si rifiutano di dare la notizia, i medici dicono che forse quel vaccino non fa tanto bene. Qualche filosofo dice che, insomma, per un essere umano battezzato non è una gran bella cosa iniettarsi una sostanza che proviene da un animale, perché quel primo vaccino si faceva a partire dalle mucche. Insomma, è tale l'opposizione che il povero Leone XII è costretto a rendere facoltativa la vaccinazione, e questo porta a molte morti inutili. Una storia che si ripete per ogni opposizione ai vaccini. E, insomma, se ogni morte è una tragedia, una morte inutile è anche un'ingiustizia. Abbiamo anche il cartello 50. Guardate quante malattie evitate dai vaccini in Italia tra il 1900 e il 2015. Abbiamo 4 milioni di casi potenzialmente gravi, un milione e mezzo di bambini, e i risultati della campagna di vaccinazione nei paesi più poveri, eccoli qua. Vedete i numeri che ci sono. Senta, in particolare, dottoressa, perché c'è stata tanta diffidenza verso il vaccino contro il morbillo? Beh, all'origine di quella diffidenza c'è una vera e propria truffa, forse la più disastrosa truffa che sia mai stata inventata nella storia dell'umanità. Tutto comincia nel 1998, quando un medico inglese, si chiama James Wakefield, dirama la notizia di aver osservato una qualche relazione tra un vaccino trivalente contro morbillo, parotite e rosolia e alcuni problemi. In particolare, lui dice che i bambini che hanno avuto questo vaccino sono più propensi a sviluppare malattie come il morbo di Crohn, che è una malattia dell'intestino molto grave, oppure anche problemi dello sviluppo o addirittura autismo. Ora, siccome l'autismo è una condizione che può avere conseguenze estremamente serie, questa ipotesi viene presa con molta attenzione da parte della comunità scientifica, che comincia a cercare di replicare gli esperimenti di Wakefield e vedere se anche altre persone riescono a osservare questo rapporto fra vaccino e danni alla salute. Beh, non ci riesce nessuno. Fino al 2004, quando inizia una specie di analisi di indagine poliziesca fatta da un giornalista e anche dagli istituti inglesi che si occupano della salute. Ebbè, emerge l'inverosimile. Si scopre che Wakefield aveva sostanzialmente falsificato i dati, che aveva ricevuto soldi, senza dirlo, da genitori di bambini che pensavano che i loro figli avessero avuto un danno dal vaccino e quindi raccoglievano prove per ottenere un eventuale risarcimento. Ma, cosa ancora più inverosimile, si scopre che Wakefield aveva presentato domanda per il brevetto, per un vaccino, alternativo a quello che stava screditando. Insomma, era tutta una truffa, i dati erano inventati a scopo di lucro. Quando questa storia è emersa, naturalmente lui è stato radiato dall'ordine dei medici inglesi, ha iniziato una carriera abbastanza brillante e remunerativa come paladino dei movimenti contro la vaccinazione, ma dietro di sé ha lasciato un'incredibile scia di lutti di persone che si sono ammalate per non aver ricevuto una vaccinazione che era disponibile e ha persino danneggiato la ricerca sull'autismo, perché si sono impiegate un sacco di risorse per cercare una correlazione fra questa condizione e i vaccini che non si è mai trovata, di cui non si è mai vista nessuna traccia, mentre queste risorse si potevano sicuramente indirizzare verso ricerche che sarebbero state più utili e più importanti. Dottoressa, a forza di parlare di virus, ci siamo dimenticati i batteri. Ecco, ci dice qual è la differenza tra batteri e virus? Beh, i batteri, a differenza dei virus, sono veri e propri esseri viventi. Sono esseri viventi di estremo successo. Sono stati i primi a comparire sulla Terra, saranno molto probabilmente gli ultimi ad andarsene. E il loro successo sta nella semplicità. Ogni batterio è un essere vivente formato da una sola cellula, una cellula che potremmo dire in modo politicamente scorretto più primitiva delle cellule del nostro organismo, ma che gli consente di moltiplicarsi con grandissima velocità. E basti pensare che nelle giuste condizioni un singolo batterio in poche ore genera un miliardo di discendenti, una cifra enorme. E allora si capisce bene che in questa condizione i batteri sono ovunque. intanto sono nel nostro corpo. Si pensa che su dieci cellule presenti nel nostro corpo una sia nostra, umana, e nove siano cellule batteriche. È un po' umiliante, ma insomma siamo una minoranza a casa nostra. Dove sono tutti questi batteri? Un po' dappertutto, ma soprattutto nell'intestino. E grazie al fatto che sono cellule molto piccole ce ne stanno parecchi in uno spazio veramente ridotto. Nell'intestino ci aiutano a digerire cibi, fanno funzioni utili, producono vitamine. Si pensa che riescano addirittura producendo delle molecole, delle sostanze che vanno in giro nell'organismo a influenzare per esempio la nostra predisposizione a sviluppare una depressione. E fuori dal nostro corpo i batteri ancora una volta sono dappertutto e generalmente non fanno danno e sono spesso utili. Alcuni batteri però possono farci ammalare molto molto seriamente e possono causare la peste, possono causare la tubercolosi, possono causare il colera, molte malattie diverse. Per fortuna contro i batteri a differenza che contro i virus abbiamo delle armi efficaci e sono gli antibiotici. Esistono circa un centinaio di antibiotici diversi. Funzionano benissimo ma hanno un problema. Devono essere usati bene. Intanto bisogna usare l'antibiotico giusto a seconda del batterio che ci sta facendo star male. Poi bisogna usarlo nella quantità giusta e per il tempo giusto. E soprattutto dobbiamo ricordarci che purtroppo contro i virus gli antibiotici non possono nulla. Dottoressa, esistono degli agenti infettivi che ci somigliano di più? Ci sono i protozoi. I protozoi sono sempre organismi formati da una sola cellula solo che è una cellula che assomiglia molto di più a quella del nostro corpo. Quindi è divisa in compartimenti interni e ha una struttura abbastanza raffinata. Fra i protozoi che ci fanno star male il più famoso probabilmente è quello della malaria. e poi ci sono anche degli organismi pluricellulari sempre minuscoli che possono farci ammalare dei vermetti. E quindi se guardiamo l'universo di microbi che ha la potenzialità di causare malattie troviamo veramente una varietà enorme. Ed è anche paradossale perché quando ci raccontiamo la storia dei nostri antenati diciamo che i primi esseri umani quelli che abitavano ancora nelle caverne dovevano affrontare pericoli terribili dentro le caverne c'erano gli orsi fuori c'erano i leoni le tigri e così via. Eppure contro questi predatori abbiamo imparato a difenderci quasi subito praticamente già con l'invenzione del fuoco mentre con i microbi ci stiamo ancora misurando. Abbiamo letto nel cartello la toxoplasmosi anche quella è un parotozoo? Sì la toxoplasmosi e il toxoplasma anzi la gente che causa la toxoplasmosi è un microbo molto pericoloso per le donne in gravidanza perché può nuocere al bambino però è anche molto comune si calcola che più o meno entra in contatto con il toxoplasma nel corso della vita una persona su tre e noi ci contagiamo generalmente magari portando alla bocca la mano sporca di terra contaminata oppure mangiando carne poco cotta però c'è anche da dire che quando il toxoplasma infetta noi ha sbagliato strada gli è andato un po' male perché? Perché il toxoplasma ha un ciclo di vita molto particolare prima deve infettare un animale che può essere un mammifero qualsiasi anche noi ma poi per completare al meglio il suo ciclo di vita ha bisogno che quel primo ospite venga mangiato da un felino perché solo all'interno dell'intestino del felino il toxoplasma completa al meglio il suo ciclo di riproduzione ora è chiaro che noi abbiamo poche probabilità di finire in bocca una tigre o un leone quindi l'ospite ideale per il toxoplasma è un topo e quando il toxoplasma riesce a infettare il topo non si limita ad aspettare e sperare che il topo sia catturato da un gatto fa qualcosa che ci sembra veramente diabolico prende il controllo del cervello del roditore disintegra in qualche modo i suoi meccanismi della paura al punto che i topi maschi vengono addirittura attratti dall'odore del gatto e quindi il topo si avvicina troppo al micio e il gioco del toxoplasma è fatto con questo precedente ci viene da chiederci cosa faccia il toxoplasma quando anziché infettare il topo infetta uno di noi fa qualcosa di simile? ci sono tanti studi ci sono delle ipotesi che dicono che forse ci fa un po' perdere anche a noi il senso della paura oppure ci induce forse la depressione oppure ci rende meno inclini a concentrarci però di fatto per fortuna nessun effetto clamoroso come quello che si verifica nel topo è stato mai visto nella nostra specie e siccome gli esseri umani che entrano nel contatto con il toxoplasma sono tanti il fatto che non si sia mai osservato niente di drammatico ci fa stare abbastanza tranquilli grazie dottoressa grazie